e ragazzi in ascolto tutti quanti ascoltatori direte buon consiglio un santo pomeriggio a tutti ave maria dato leonardo maria pompei e bentornati ad una nuova puntata di spazio giovani passata la settimana in albis ora ci riconnettiamo ieri abbiamo celebrato la splendida festa dell'annunciazione sappiamo che è stata posposta alla prima domenica al primo lunedì scusate dopo la seconda domenica di pasqua e come di consueto ecco perché non era possibile celebrarla nella data opportuna quindi tutti quanti gli amanti della madonna ma anche tutti quanti i figli del divino volere hanno celebrato con gioia immensa la festa di ieri che anche la festa del fiat è la festa del fiat redimente con la divina maria con la sua risposta data all'arcangelo san gabriele ci ha aperto non solo ecco le porte della redenzione ma ci ha aperto anche le porte del fiat santificante che quello in cui chi ascolta queste catechesi ecco ha come minimo il grande desiderio di entrare perché sappiamo tutti quanti abbiamo imparato che la redenzione era l'atto primo in termini temporali ecco ma l'atto primo in termini intenzionali da parte della santissima trinità era il re in metterci nella divina volontà quindi nel fiat santificante che invece l'atto secondo in termini e temporali faccio questa piccola premessa perché oggi leggeremo un altro scritto veramente spettacolare andiamo un pochino lontano andiamo verso verso l'università quindi verso il corso di laurea perché oggi dobbiamo andare al volume 25 quindi siamo già abbastanza abbastanza in là con gli scritti e vedremo un aspetto fondamentale nel primo di quelli che consideremo oggi non so se sarà l'unico o se riusciremo a farne un paio cioè che dopo luisa dobbiamo sempre tenere presenti il regno della divina volontà è stato aperto ora noi parlavamo anche un pochino tra sacerdoti no abbiamo avuto la grazia di poter stare qualche giorno insieme con sacerdoti insomma che che conoscono bene vivono il regno della divina volontà negli scritti si parla chiaramente di due cose uno che nella mente di dio c'è previsto un tra virgolette il regno della divina volontà un regno della divina volontà che sembra avere come dire un'estensione grande cioè tale da coinvolgere la chiesa intera e una volta appunto instauratosi essendo proprio una direzione presa proprio dalla da una scelta dell'altissimo davvero inaugurare un'era nuova nel mondo intero nel senso che il discorso è così il regno della divina volontà è stato ovviamente vissuto da dama ed eva fino al peccato originale poi senza che nessuno lo sapesse al di là di diretti interessati l'hanno vissuto gesù e maria poi c'è stata questa rivelazione e la possibilità di vivere in questo regno a luisa dopo luisa ed è sicuramente il tempo in cui stiamo noi e lo vedremo anche nello scritto di oggi sicuramente possibile a chi lo desidera veramente e a chi si adopera a chi fa tutto quello che è necessario queste categorie servono a questo per questo fine entrare in questo regno cioè la vita nella divina volontà è possibile ed è una vita veramente divina stupenda bellissima d'accordo e quindi vedo un attimo un attimo una cosa allora capisco ok e invece dicevo nel regno della divina volontà non è soltanto un processo individuale cioè una persona attraverso le conoscenze che acquisisce lo vedremo anche oggi e attraverso l'operato fondamentale vedremo dei sacerdoti per questo che io sono contento che nei giorni scorsi abbiamo potuto essere un pochino di sacerdoti uniti insieme per certamente per un tempo di esercizi spirituali i sacerdoti tra l'altro sono molto molto più addentrati del sottoscritto quindi molto 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 bravi ma era molto bello poter vedere queste cose perché è chiaro che per volontà di gesù il ruolo dei sacerdoti è un ruolo fondamentale e non si tratta perché è un ruolo fondamentale ecco qui vorrei anche insomma sensibilizzare perché la divina volontà ha dei come dire a dei passaggi a dei punti certamente che sono come dire delicati sono dei passaggi non soltanto dedicati ma molto particolari per cui io sinceramente leggendo certi scritti specialmente degli ultimi volumi dico numero uno signore mia grazie a poterli leggere numero due ti ringrazio anche che mi hai dato proprio da un punto di vista oggettivo le chiavi di decodificazione quindi la possibilità di capirci qualcosa e ci vogliono ma a mio modestissimo avviso cioè delle coordinate non solo ascetiche ma anche teologiche che difficilmente un laico potrebbe avere capite ecco perché allora un laico potrebbe o fraintendere e purtroppo alcuni fraintendimenti sugli scritti non ho fatto quella qualche accenno ci sono già stati oppure scoraggiarsi perché non capisce niente dinanzi ad alcune cose no? in effetti questa è un'obiezione che ogni tanto qualcuno la fa dice gli scritti sono troppo difficili non è vero che sono troppo difficili certo che come io sempre evidenzio specialmente nelle meditazioni quotidiane gli scritti vanno letti tutti ed è importante leggere bene anche i primi volumi l'ho ribadito anche nella meditazione di questa mattina lo ribadisco anche adesso cioè dovrò fare presto tardi mi hanno anche chiesto qualcuno nei giorni scorsi io ho incontrato una puntata ora casomai la inserisco in questa serie di brani antologici sennò non arriva mai insomma perché poi io sto cercando di far lasciare di lasciar fare in qualche modo alla divina volontà anche la scelta di questi brani nel senso che se per qualche motivo vengo in contatto io ne ho visti alcuni d'accordo ma se poi entro in contatto per qualche situazione con qualche brano particolarmente significativo che mi si illumina la mente e dico questo è un brano fondamentale quindi utile da presentare diciamo come raccolta ontologica i brani di Luisa sono uno meglio dell'altro per cui fare una scelta è quasi impossibile però ce ne sono alcuni che sono particolarmente significativi quello della volta scorsa c'è il rapporto per esempio molto delicato ecco tra la divina volontà e l'eucaristia che è un passaggio delicatissimo facile essere frainteso è però al tempo stesso molto molto importante è sintomatico è significativo cioè fa capire alcune cose a chi lo interpreta ovviamente correttamente e allora cosa non è la divina volontà per esempio la divina volontà non è come dire una scorciatoia un bypassare allora uno fa lo splendido dice ah adesso qui stiamo in una santità super stiamo in un cammino è spettacolare stiamo torniamo nell'eden e quindi è come dire ci sbarazziamo no facendo così con le mani di duemila anni di ascetica o di storia della chiesa o di santità non è così eh nessuno pensi che è così cioè vivere nella divina volontà come dire porta all'estrema perfezione e all'ultimo compimento il percorso di santità ma nessuno è esonerato dal percorrere anzitutto le vie ordinarie di santità perché la santità nella divina volontà si innesta in questo percorso e lo porta alle estreme conseguenze capito ecco questo per esempio è un passaggio fondamentalissimo cioè che deve essere ben chiaro nella testa e quindi i primi volumi sono proprio è chiaro che nei primi volumi Gesù non fa discorsi tecnici o espliciti su alcuni aspetti come dire peculiari del dono della divina volontà perché perché ha preparato Luisa stessa ad ascoltare certe cose infatti chi segue casualmente o regolarmente le meditazioni quotidiane che ho iniziato da un po' di tempo dal primo volume proprio siamo arrivati al quarto il titolo voluto dare a questo podcast è come ci si prepara a vivere nel regno del divino volere cioè la santità ordinaria non è ancora il regno del divino volere però almeno ti porta sostanzialmente a fare la divina volontà con una volontà distinta da quella di Dio con tutte quante le difficoltà che questo cammino comporta però è come dire è la piattaforma è la base d'accordo perché il più comprende il meno non si può fare come come gli eretici che pensavano già con la rivelazione c'è arrivato il nuovo testamento ha parlato Gesù e San Paolo quindi il vecchio testamento lo buttiamo a mare è chiaro che nel vecchio testamento in relazione al nuovo ci sono delle cose imperfette la chiesa ha sempre insegnato che il vecchio testamento si legge alla luce del nuovo d'accordo ecco perché bisogna essere sempre molto attenti molto prudenti quando ci si accoglie e quando ci si accosta non accoglie scusate alla 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 sagra scrittura bisogna essere sempre molto molto attenti nel senso che non ci si può avventurare così perché ci si imbatte in alcuni scogli che tu dici ma come mai si è scritta questa cosa nell'antico testamento ma che è è un altro dio rispetto a quello del nuovo no non è un altro dio è lo stesso identico il problema è che devi leggere quel passo dell'antico testamento alla luce del nuovo e devi comprendere come la chiesa ti insegna nella De Verbum che nello stesso antico testamento c'erano dei punti come dire imperfetti nel senso di adatti al tempo economico prima di Cristo non più adatti al dopo Cristo guarda un attimino che devo fare un attimo di operazione ok questo vale anche ovviamente nel discorso sulla divina volontà tutto quello che c'è stato entra tutto d'accordo non esce nulla ed ecco perché questo dono si innesta al 400% dentro la tradizione non soltanto magisteriale della chiesa d'accordo perché il fiat voluntas tua sicuro ti interra il padre nostro d'accordo quindi su questo non c'è possibilità di discutere ma anche da un punto di vista ascetico si innesta cioè alcune lezioni che Gesù ha nei primi volumi sono lezioni che una persona sacerdote che ha letto scritti e libri di santi in abbondanza li potrebbe tranquillamente riproporre rifare senza la necessità del ricorso agli iscritti di Luisa questo non è una cosa che dici ah vabbè allora salto perché non c'è niente di nuovo no non saldi manco per niente perché questo è importantissimo ed è propedeutico al nuovo quindi non devi saltare nulla ecco chiusa quindi gli iscritti vanno letti tutti e bisogna fare a mio avviso anche un lezio continua certo è molto bello è molto bello per esempio ogni tanto è bello ed è anche come dire importante ogni tanto andare qua e là chi può prende e ne legge uno sapete è un po' come quando qualcuno non vorrei azzardare paragoni insomma fermo restando la diversità delle fonti la regolazione pubblica è una cosa gli iscritti di Luisa sono altri però ogni tanto con molta discrezione con molta cautela e con molto discernimento ecco non come si fa in alcuni ambienti perdonatemi dove insomma si tratta un po' la parola di Dio come se fosse come dire una sorta di di jukebox o di soluzione immediata ai problemi la stessa cosa che fanno alcuni con il padre spirituale no ecco 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 però non è proprio così ecco però sapete che San Francesco ma sono soltanto San Francesco Sant'Antonio Abate ebbe questa esperienza di essere mosso dalla grazia attraverso l'apertura a caso del Vangelo è storia adesso ripeto ci sono ambienti gruppi movimenti che stanno tutto il giorno a Cristo l'angelo a caso a tutte le ore a tutti i minuti cioè avendo un rapporto come dire a mio avviso non troppo equilibrato non troppo opportuno perché ripeto non è che tu c'è un problema tac apri il Vangelo e ti immagini che immediatamente il nostro Signore ti dà la soluzione anche come dire strumentalizzando a volte le passi biblici forzandoli in qualche modo a mio avviso modestissimo questa è un'operazione un pochino eccessiva però ci può stare d'accordo che senza queste come dire queste ansie di andare a trovare la soluzione immediata al problema X un giorno mi metto a pregare e dentro una preghiera profonda anziché magari leggere il Vangelo del giorno che è sempre cosa buona della liturgia della Santa Messa dico vabbè apriamo un brano del Vangelo e con molta calma senza precipitare vediamo se il signore vuole parlare un pochino al mio cuore vuole smuovere qualche cosa quindi senza la pretesa come dire del jukebox no? quindi voglio sentire questa canzone metto la monetina e mi tira fuori la canzone no? ecco così con gli iscritti a volte può essere bello come dire fare un po' di pick up in giro anche per per avere come dire un sempre come dire un un ampio raggio quindi un'ampia fonte a cui abbeverarsi però la lezione continua è particolarmente utile perché fa capire proprio la progressività e la continuità di questo percorso cioè i volumi 36 cioè il volume 36 è il volume 36 cioè ci sono delle cose dei passaggi io per esempio ne abbiamo visto uno la settimana scorsa io sono rimasto folgorato però capisco benissimo che i concetti di cui parla lì Gesù va veramente molto 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 in alto d'accordo? molto in alto quindi è chiaro che gli ha detto quelle cose nel 1938 quindi non qui stiamo nei primi volumi cominciamo dal 1899 cioè sono passati 40 anni di lezioni lezioni e esperienze e quest'anima fatta a contatto diretto con Gesù capite? 40 anni sono proprio tanti è tanta roba capite? ecco quindi seguendo anche come dire l'itinerario di Luisa comprendiamo anche che questo è un cammino perdonatemi se mi sono dilungato un pochino però ecco detto questo possiamo addentrarci nello scritto di oggi però io quando faccio queste cose è perché avverto diciamo la importanza e la necessità di chiarire bene alcuni punti alcuni passaggi essenziali perché altrimenti non ci si è orizzonta bene allora siamo nel volume 25 accennavo 13 gennaio del 1929 leggo il titoletto sapete che i titoletti degli scritti non sono originali quindi non li ha dati il visa li hanno dati vari come dire divulgatori ecco che si sono accostati ad essi come dire per fare una specie di sommario quindi sono ricostruzioni arbitrarie però a volte può essere utile dargli un'occhiata perché sono una sorta come dire di introduzione al contenuto dello scritto no anche io quando la mattina intitolo la meditazione che poi esce in podcast il titolo glielo do io perché non seguo i paragrafetti ma in base ai punti che Gesù tocca e su cui magari merito un po' do il titolo alla meditazione è un fatto del tutto opinabile quindi è un fatto del tutto come dire arbitrario arbitrario no però è del tutto opinabile quindi non bisogna farci troppo caso però può aiutare per capire di che cosa stiamo parlando allora il titoletto è così i profeti come il regno della retenzione e quello del fiat si danno la mano chiaramente questa è la puntata 41 quindi dire regno della retenzione del regno del fiat non ha bisogno di spiegazioni dovremmo ormai essere familiari con questo linguaggio necessità che si conosca ciò che riguarda il regno della divina volontà i sacerdoti novelli profeti del regno del fiat divino ecco il passaggio che vi accennavo bene cominciamo la lettura stavo seguendo il mio giro negli atti del fiat divino è giunta al punto di accompagnare i profeti guardate che bello no? per ora faccio subito un'interruzione tra i giri che si fanno si può per esempio girare nel fiat divino come nella bibbia io non voglio fare pubblicità nel mio piccolo sito personale c'è anche in mp3 c'è anche il piccolo ebook nel pdf il pio pellegrinaggio dell'anima nell'operato del divino volere io ritengo questo testo una perla preziosissima perché se uno lo legge perché lì praticamente se uno lo segue con attenzione abbiamo parlato nelle catechesi ma ci sono i giri dappertutto perché ci sono i giri comincia con i giri nel fiat creante poi comincia il giri nel fiat divino parla dei profeti parla della sacra scrittura parla della vita di gesù della vita della madonna della vita privata della vita pubblica dei sacramenti della passione capito ci sono due tre ore che sono un piccolo concentrato anziché 24 le 24 ore della passione nella risurrezione quindi è un testo che da un lato quando uno prega gli fa fare dei giri anche se uno non lo sa dall'altro è istruttivo perché noi dobbiamo imparare a girare in continuazione perché la vita non è di volere è un girare in continuazione che è fondamentalmente un farsi attenti agli infiniti ti amo di Dio che stanno dappertutto pure quando stai a tavola che mangi cioè si mangia nella divina volontà non soltanto dicendo che viene divina volontà nel mio mangiare capite ma quando tu mangi hai mangiato un piatto di pasta con un sugo buono quello è un ti amo di Dio allora se mangi nella divina volontà senza bisogno di fare scene che se ne accorge nessuno se sei capace se prendi questa abitudine mangi quella pasta e dici benissimo signore grazie accoglio il tuo ti amo attraverso questa la bontà contenuta in questa pasta in questo pomodoro in queste vongole eccetera eccetera e ti ringrazio e ti ricambio il tuo ti amo con il mio poi lo metto dentro queste creature metto il mio ti amo perché ti posso aggiungere nel divino volere e ce lo metto a nome mio a nome di tutti quanti quelli che se mangiano gli spaghetti a le vongole col sugo e che ti hanno mai detto grazie questo è un giro questo qui non solo che un giro questa è una cosa strepitosa cioè un pasto fatto in questo modo vedrete quando sarete morti che se qualcuno lo fa che significa questo vale per tutto è un'abitudine chiaramente che piano piano si prende no? è chiaro che non prendi mai l'abitudine se tu non entri per esempio bene nel fatto che il girare è fondamentalmente un rapporto d'amore perdonatemi insomma se è così è un rapporto d'amore perché un ricevere il ti amo di Dio è un ricambiarlo ma tutta la vita nel divino volere è tutta così la vita nel divino volere è vita d'amore è tutta così allora bisogna piano piano come dire perché poi bisogna fargli gli atti nel divino volere fare una cosa di questo genere è fondamentale non basta questo per vivere nella vita volontà ma questo è cosa da fare il più possibile d'accordo? cioè la nostra vita dovrebbe piano piano diventare pur operando e pur muovendoci come quella di 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 del divino volere che stanno connessi e quindi in ogni istante senza che questo turbi l'attività ordinaria dell'amministrazione o in genere di ansie sono pronti a riconoscere e ricambiare il diamo di Dio questo significa girare fondamentalmente io ho visto le catechesi su questo tema allora qui cosa stava facendo Luisa? vedete come passava la giornata di Luisa stava seguendo il mio giro negli altri fiori divini è giunta al punto di accompagnare i profeti quando il volere divino si manifestava loro i profeti dell'antico testamento Isaia Geremia Ezechiele Daniele quattro maggiori poi Amos Gioele Abdiah Abacuc Osea tutti quanti tutta la sfilza dei 12 profeti minori d'accordo? quando il volere divino si manifestava a loro e il come ed il quando della venuta del futuro redentore ed i profeti attenzione a questo punto lo sospiravano con lacrime preghiere e penitenze e penitenze questo è un punto molto importante perché il redentore questa è una meditazione anticipo degli esercizi della settimana scorsa è venuto sulla terra quando cioè Dio non fa doni grossi quanto una casa per esigenze di equilibrio e di ordine della sua giustizia senza che tu le abbia desiderate gliel'abbia chieste con preghiere lacrime e penitenze perché che venisse il redentore sulla terra è stato il dono più grande che Dio potesse salvare l'umanità capite? ricordate il passo di Isaia o cieli e piovete dall'alto o nubi mandateci il tante o terra aprici o terra gemini il salvatore capito? e chi è stato che è stato il numero uno in questa vita di ininterrotte suppliche preghiere e lacrime perché presto venisse il messaggio sapete chi è stata? sì era festeggiata di ieri era madonna la divina maria cioè tutto quello che mancava a tutte queste cose che andavano avanti da 1850 anni da Abramo in poi le ha colmate la madonna e le ha colmate talmente date talmente bene che è più che fondata l'ipotesi che abbia anticipato con tutto quello che ci ha messo e con tutto quanto il sordo dei tempi dell'incarnazione ma comunque la madonna aveva quantomeno 15 anni e la madonna ha cominciato a lavorare tra virgolette fin da quando è stata concepita e la madonna lavorava non come Luisa di più ininterrottamente per questa grazia mi fermo su questo particolare perché quando verrà il regno del fiat divino quanti di noi conoscendo queste cose quando pregano dicono venga il tuo regno signore veramente ma venga il regno del fiat divino venga dentro di me venga nel cuore di mio padre di mia madre di mia moglie di mio marito di mio figlio cioè noi lo diciamo nel padre nostro quando diciamo nel padre nostro ora che abbiamo questa consapevolezza quando diciamo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e cosa in terra dovremmo zampare sulla sedia cioè dovremmo mettere dentro questa petizione un cuore ardente desideroso se uno capisce cosa c'è davanti i correnti del divino volere quindi qui sta parlando della venuta del redentore quindi il fiat redimente questi lo sospiravano con l'acri nelle preghiere penitenze ed io facendo mio tutto ciò che loro facevano vedete il girare nella divina volontà io prendo gli atti che hanno fatto queste persone prima di me le faccio mie e le rioffro al signore essendo tutto questo frutti dell'eterno fiat divino lo ferivo per impetrare il suo regno sulla terra che sta facendo Luisa dico io mi vado a prendere tutti quanti le lacrime le preghiere le penitenze di tutti i profeti e te li ripropongo nel fiat supremo unendomi a loro loro l'hanno offerti per impetrare il fiat redimente e io te li offro per impetrare il tuo regno sulla terra cioè il regno del fiat supremo cioè il fiat santificante ma mentre ciò facevo il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto attenzione figlia mia quando un bene è universale attenzione e che deve può portare bene a tutti è necessario che popoli interi e se non in tutti in gran parte sappiano il bene che devono ricevere quindi attenzione chi ascolta queste cose ma non per questo povero come dire e maldestro trasmettitore ma per il contenuto di quello che arriva sappiano il bene che devono ricevere e con le preghiere sospiri desideri ed opere impetrino un tanto bene ecco perché la preghiera è sempre così importante ma ecco perché la Madonna dovunque appare sono due secoli da questa parte io personalmente sono convintissimo che anche tutte quante le apparizioni certamente quelle autentiche soprattutto di Maria Santissima di questi ultimi secoli sono finalizzate in qualche modo sono indirizzate all'avvento di queste storie ma cosa dice sempre preghiere penitenze preghiere penitenze preghiere penitenze preghiere penitenze preghiere penitenze sempre allora preghiere sospiri desideri ed opere impetrino un tanto bene in modo da restare in primis concepito il bene che vogliono nelle menti nei sospiri nelle opere e fin nei cuori e poi le viene dato in realtà il bene che sospirava ora anche chi vuole entrare nel regno del divino volere fa parte anche per entrarci a titolo personale perché se no non ci si entra cioè questa è una cosa talmente grossa che il Signore te la dà se tu la sospiri se tu la desideri se tu ci preghi d'accordo se tu sei disposto a fare qualunque cosa per entrarci perché vivere nel fiat divino è ripeto vivere una vita divina cioè simile a come vivere nei nostri progenitori vivendo il peccato originale e anticipare la vita che vivono in paradiso qui sulla terra d'accordo perché vivere in modo divino non più umano è una cosa grossa non si riesce subito a percepire con chiarezza e a capirla bene ma è una cosa grossa capite? voi capite che significa fare un esempio quello di prima io mangio prendo il Tiamo di Dio e lo ricambio ho trasformato un atto naturale e a volte peccaminoso perché è molto facile fare a tavola dei piccoli peccati di gola in un atto divino in un atto che fa godere la Santissima Trinità che si dice guarda un po' c'è un cristiano uno che capisce mangiando chiaramente in moderazione senza strafogarsi ma in questo modo che anche l'alimentazione con una necessità bassa di questa vita terrena in paradiso non si fanno i banchetti manco dopo la riduzione della carne perché non serve mangiare però in questo mondo in questa vita transeunte quello è un piccolo ti amo di Dio e chi lo riconosce come tale chi lo ricambia chi ripara voi sapete che la stragrande maggioranza della gente si mette a tavola manco bene a fare sezione della grosce che già che non è questo ma è qualcosa d'accordo sono cose gravi queste qui non è che adesso voglio fare la predica moralistica insomma ma non è una cosa bella che uno si mette a mangiare come gli animali che vanno davanti alla ciotola e cominciano a mangiare a strafogarsi come se niente fosse tu non sei un animale tu sei un essere umano tu devi chiederti da dove viene questa cosa che sto mangiando punto interrogativo chi è che ha creato la natura da cui in maniera immediata se è frutto o verdura o mediata se è un'elaborazione una cosa che viene dagli animali sta roba viene chi l'ha fatta l'ha fatta Dio l'ha fatta chi l'ha fatta e io vorrei di grazia oppure no vorrei anche andare oltre nonostante dire un grazie come un dovere ecco la vita nella la vita di servio non dei figli no ah si devo sono obbligato a ringraziare come se fosse un padrone ma non vai oltre guarda che attraverso la varietà degli elementi che hai creato Dio gli dice ti amo in tanti modi differenti perché sollecita le due pupille gustative che lui stesso ha creato in tanti modi differenti per il tuo bene questo non vuol dire che tu in ricambio ogni tanto fare qualche bel digiuno come atto d'amore al Signore dove rinuncia a queste cose non perché non le consideri un atto d'amore di Gesù ma perché gli ricambi un atto d'amore differente e stando nel fiat redimente c'è bisogno di qualche sacrificio glielo fiamo volentieri ma è è sempre tu cioè sia che mangi sia che digiuni è sempre un atto d'amore capito quindi un atto d'amore non è soltanto il digiuno è anche mangiare nella divina volontà questi sono esempi più più piccoli più banali ma queste sono cose grosse cioè tu non avverti niente ma un atto del genere è una bomba atomica il fatto che non si avverta niente non deve perché c'è qualcuno che quando va a fare la comunione ogni volta che va a fare la comunione avverte qualcosa le realtà spirituali non danno come dire percezioni o riverberi o reazioni immediate sensibili fa la comunione nella bocca senti il sapore del pane azimo sì può darsi che il signore ti ha qualche piccola consolazione sensibile magari ti raccoglie un po' qualche preghiera se ti dà la preghiera profonda fai pure qualche lacrima magari d'accordo poi cioè la bomba atomica d'accordo un'ultranucleare che è fare solo una comunione quasi nessuno l'avverte altrimenti andrebbero tutti in chiesa a farsi la comunione non c'è quasi nessuno capito la messa che è la cosa più grande che esiste nell'universo ma quanti se tu fai a uno la domanda e dici qual è la cosa più grande che esiste nell'universo la riposta è immediata la messa dopo la messa il sacerdozio ministeriale ma non perché sono prete io d'accordo perché noi da un punto di vista oggettivo cioè che un uomo abbia poteri divini in senso stretto di creare Dio in pezzo di pane cioè capite basta finito ma chi è che pensa queste cose capite chi è che guardando un sacerdote oggi che c'è in giro l'idolatria perpetua è capace di andare oltre l'umanità del sacerdote sia che sia santo sia che non sia santo peccatore o non peccatore buono o cattivo modernista tradizionalista tutto quello che te pare come faceva San Francesco e guardare semplicemente la funzione sacerdotale il ministero sacerdotale per cui quello da un punto di vista oggettivo è un altro uomo rispetto agli altri capite e guai a lui senza ne rende conto guai a lui o se usa questa sua oggettiva grandezza per far danni guai a lui preghiamo per lui allora Gesù dice quando un bene è universale quello che si deve ricevere ci vuole la forza del popolo per impietrarlo invece quando è individuato locale può bastare uno per ottenere l'intento qui è molto importante per cui sta dicendo che il regno del fiat non è solo appannaggio dei singoli che comunque per riceverlo devono pregarci devono disporsi ma è come il fiat redimente per chi è la retenzione operata da Gesù per tutti per tutti quanti sono chiamati a entrare nella chiesa cattolica tutti che poi tutti non ci entrino e che siano in diverso modo adesso ordinati come spiega l'olume in genzi non c'è tempo di farlo qui rimando alle catechesi per gli adulti che sto facendo sono già i video proprio in questo periodo agli articoli che sto scrivendo su questi argomenti sul settimanale di dibattere più proprio in questi giorni quindi per approfondire va a approfondire però la chiamata alla chiesa è per tutti non ci sono le porte chiuse perché la retenzione che Gesù ha operato è per tutti non è per qualcuno il sangue Gesù l'ha versato sicuramente da un punto di vista oggettivo per tutti poi che a causa della cattiva volontà degli uomini sia efficace non per tutti 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 ma per molti perché alcuni trasformano il sangue di Gesù in veleno questo non dipende dalla divina volontà questo dipende dalla volontà umana chiaro? ma nella mente di Dio è universale e quindi qui dice attenzione quando un bene che si deve ricevere è universale ci vuole la forza del popolo per impetrarlo e quando è individuale o locale può bastare uno per ottenere l'intento quindi ascoltate bene prima di venire sulla terra e di restare concepito nel seno della sovrana del cielo posso dire che ero concepito nelle menti dei profeti ed io confermavo ed avvaloravo questa specie di concepimento in loro e con le mie manifestazioni del quando e del come dovevo venire sulla terra per dimere il genere romano cosa che lui ha rivelato i profeti e i profeti c'erano messi neri su bianco d'accordo? come e quando guardate Isaia come ha spiegato benissimo nei quattro canti del servo di Yahweh tutto quello che sarebbe stato l'opera pubblica e redimente in senso stretto di Gesù ed i profeti fedeli esecutori delle mie manifestazioni facevano da trombettieri manifestando con le loro parole ai popoli ciò che io avevo manifestato della mia venuta sulla terra e concependomi nelle parole di essi facevano volare di bocca in bocca la notizia che il verbo voleva venire sulla terra e con ciò non solo restavo concepito nella parola dei profeti ma pure restavo concepito nella parola del popolo in modo che tutti ne parlavano e pregavano e sospiravano il futuro redentore quindi importantissimo quello che hanno fatto i profeti perché non è rimasta una cosa privata tra loro e Dio ma ne hanno parlato e parlandone già che reggeva il profeta Isaia a suo tempo poteva dire quando verrà perché la Madonna ha fatto anche tutte quante le sue suppliche e le sue preghiere non necessariamente per una rivelazione diretta può darsi anche che il Signore glielo abbia dato ma bastava come ogni pia ebrea poi la Madonna abbiamo una tradizione che è stata nel Tempio fin da quando era bambina alla festa del 21 novembre al Tempio di Gerusalemme che cosa facevano le bambine imparavano la sacra scrittura e sentivano i profeti e quindi immaginate la Madonna quando sentiva il quarto canto del servo di Yahweh d'accordo non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi non splendore per provare in lui diretto disprezzato reglietto dagli uomini uomo di dolore che ben conosce il patire lei capiva benissimo per chi era questa ed ecco perché al momento dell'annunciazione è stato un eroe perché sapeva bene chi sarebbe stato il Messia e cosa avrebbe comportato anche per lei in termini di sofferenze l'accettare il compito della divina maternità che sarebbe stato non solo gaudio ed estasi unico e ringraziamo il Signore che si era avuto lei che è l'unica che se lo merita ma sarebbe stata anche una partecipazione unica alle sofferenze della redenzione come nessun altro avrebbe partecipato in maniera così intensa come è stato per Maria Santissima capite? quindi attraverso la parola del profeta la verità passa al popolo e quando fu diffuso nei popoli la notizia della mia venuta sulla terra riprendo la lettura ed un popolo quasi intero con a capo i profeti pregavano tutti gli ebrei sospiravano con lacrime penitenze restando nella volontà di essi come concepito allora feci venire a vita alla regina in cui dovevo in realtà concepire per fare l'ingresso in un popolo che da 40 secoli 40 secoli mi sospirava e desiderava 4.000 anni ok qui Gesù considera membri del suo popolo già i figli d'Adamo secondo la cronologia della scrittura nemmeno da Abramo in poi quindi 4.000 anni 4 e dice la Madonna l'ho fatta nascere quando come dire il numero di preghiere era non soltanto cospicuo ma era anche diffuso cioè ormai tutto il popolo di Israele tutto pregava per questa intenzione e allora è nata con lei che avrebbe portato a compimento tutte queste preghiere e io sono venuto ok prosegue quale delitto non avrebbero commesso i profeti se avessero occultato nascosto in loro stessi le manifestazioni le mie manifestazioni sulla mia venuta avrebbero impedito il mio concepimento nelle menti nelle preghiere parole ed opere del popolo condizione attenzione necessaria per poter il Dio concedere un bene universale quale era la mia venuta sulla terra qua uno già capisce dicono a Roma dove andare a parà d'accordo ora figlia mia il regno della redenzione ed il regno del mio fiat divino sappiamo ormai il linguaggio tecnico fiat redimente e fiat santificante si danno la mano ed essendo anch'esso un bene universale ecco perché attenzione il fiat divino la vita è una linea volontà non è come dire un appannaggio di qualche entusiasta della santità d'accordo di qualche persona che vuole tanto bene a Gesù e vuole andare fino in fondo no non è solo sarebbe troppo poco non è solo questo nella mente di Dio è un bene universale perché volendo tutti possono entrare in esso non ci sono esclusioni a priori bella notizia questa qui no chi può entrare tutti possono entrare nel regno del linguaggio tutti quanti allora però è necessario che la sua notizia la sappiano molti e resti concepito nelle menti nelle parole nelle opere e nei cuori di molti perché affinché si dispongono con le preghiere attenzione con i desideri e con una vita più santa ecco tutto il preambolo che ho fatto si dispongano a ricevere il regno della mia divina volontà in mezzo ad essi a capito quindi la prima cosa è la notizia la notizia deve essere data gli iscritti devono essere diffusi le catechesi devono essere fatte in modo tale che le persone sappiano quello che c'è e comincino a pregare per sé e per tutti perché questo è un progetto universale proseguo se la notizia non si divulga se le mie manifestazioni non fanno le trombettiere e non volano di bocca in bocca le conoscenze sul mio fiat divino che formiranno il concepimento di esso nelle menti preghiere sospire e desideri delle creature il mio volere divino non farà l'ingresso trionfale di venire a regnare sulla terra e ora attenzione a questo passaggio quanto è necessario che le conoscenze del mio fiat si conoscano non solo ma che si faccia conoscere che la mia divina volontà vuole già venire a regnare come in cielo così in terra in mezzo alle creature e dai sacerdoti come novelli profeti tocca a loro il compito con la parola e con lo scritto e con le opere di fare da trombettieri per far conoscere ciò che riguarda il mio fiat divino qui io vorrei dire una cosa non è perché a me non c'è io queste cose neanche le sapevo quando ho cominciato come dire a sentire insomma il desiderio di condividere io mi sento veramente l'ultimo arrivato in questo mondo come dire il piccolo non sto facendo retorica ne faccio umiltà perché umili purtroppo ancora non ci sono quindi sono ancora molto lontano da questa realtà però qui Gesù chiede di fare questa cosa ai sacerdoti per tanti motivi d'accordo non soltanto perché capite l'innesto nel sacerdozio è garanzia come dire di legame intrinseco con la chiesa cattolica a cui questi scritti già appartengono perché sono fanno parte dell'essenza della sua vita d'accordo per cui anche se la chiesa sta adesso ufficialmente in congregazione della rotina della fede stanno tutti quanti riga per riga essendo passati in rassegna gli scritti perché c'è la causa di beatificazione di Luisa quindi adesso la chiesa comincia a prenderne coscienza d'accordo quindi comincia a prenderne coscienza comincia anche a farli ufficialmente oggetto di studio ma anche a prescindere da questo tutta questa roba qui questa è la mia opinione personale soggettiva sta già dentro il cuore della chiesa al 400% ora però nella chiesa c'è una funzione pubblica di predicare pubblica e autorevole a chi spetta a coloro che hanno ricevuto il mandato di predicare che sono i sacerdoti capite anche come garanzia perché un sacerdote insomma degno di questo nome quando spiega alcune cose quando le interpreta è evidente che può fare un'opera fondamentalissima di raccordo pieno di questi scritti con la vita la tradizione la scetica e la santità che c'è nella chiesa d'accordo chi non è sacerdote io adesso non voglio cioè non appunto primo è difficile che riesca a fare questo lavoro al 100% ma appunto secondo non è innestato nella gerarchia nella successione apostolica non c'ha questa cosa però da un punto di vista oggettivo capite non è una cosa che dice Don Don Leonardo qui è Gesù che dà il compito ai sacerdoti come novelli profeti non ad altri tocca a loro il compito e con la parola e con lo scritto e con le opere fare da trombettieri per conoscere ciò che riguarda il mio fiat divino d'accordo quindi ce ne sono diversi di sacerdoti in gambio ne conosco alcuni posso tranquillamente anzi lo faccio tranquillamente fare qualche nome dei sacerdoti che io conosco padre Pablo Martin insomma che è un'autorità indiscussa insomma in tema di divina volontà fra Pio Maria Ciampi il mio caro amico Don Pierpaolo Maria Cilla Padre Chieri ci sono i padri insomma che custodiscono adesso non mi ricordo come si chiamano la basilica dove è sepolta Luisa Corato insomma che hanno un pochettino anche all'interno della diocese insomma la conoscenza la gestione quindi c'è io ripeto delle conoscenze molto limitate chiedo già in anticipo perdono a tutti quanti i confratelli se dovessero indizio catechesi cioè non è che non parlo per mancanza di stima non ho molte altre conoscenze insomma ecco però già l'operato di questi sacerdoti è stato molto significativo anche in termini come dire di produzione letteraria di composizione girano un sacco di bellissime cose ci sono state delle raccolte degli scritti di Luisa fatti da alcuni di questi sacerdoti per argomenti per esempio sulla passione sulla resurrezione su Adamo sugli scritti molto molto belli gli scritti che parlano della vita della chiesa c'è tantissimo materiale in giro ecco è sempre bene come dire attingere a fonti anzitutto sacerdotali ecco per evitare che poi si si cada io anche su questo so qualcosa non so molto molto non sono molto molto addentro per esempio perdonare mi sento sempre un pochino si sono già create delle malcomprensioni malinterpretazioni a volte addirittura qualche piccola deviazione voi sapete che il San Pio da Pietra del Cina per esempio era come dire tassativo lui ha fondato i gruppi di preghiera ma lui voleva che di dentro ci fosse un sacerdote non è essere clericali capito non è non è fare il clericalismo d'accordo che si devono stare preti per forza in mezzo dappertutto ma è una misura voluta da Gesù per ovvie buone e ottime ragioni è chiaro che Gesù ha fatto questa cosa ha detto questa cosa per delle buone motivazioni e al tempo stesso come dire è una sollecitazione è un invito ai suoi ministri a conoscere ad approfondire ad accogliere gli iscritti sulla divina volontà ai sacerdoti come novelli profeti tocca a loro il compito con la parola e con lo scritto e con le opere fare da trombettieri per far conoscere ciò che riguarda il mio figlio divino adesso qui è sempre Gesù che parla io qui non commento perché non mi vuoi trovare ecco ne sarà minore il loro delitto delitto dei sacerdoti negligenti se i profeti avessero nascosto la mia redenzione che i sacerdoti con non occuparsi per quanto possono di ciò che riguarda la mia divina volontà saranno loro la causa che un tanto bene non sia conosciuto né ricevuto dalle creature soffocare il regno della mia volontà ottenere sospeso un bene così grande che non vi è altro simile ad esso non è forse un delitto io ripeto non commento i miei confratelli che ascoltano queste cose ognuno farà le sue considerazioni personali perciò ti raccomando da parte tua non omettere nulla e prega per quelli che si devono occupare per far conoscere un tanto bene poi ha soggiunto con un accento più tenore ed afflitto figlia mia era questo lo scopo con cui permetteva la necessità della venuta del sacerdote voi sapete che Luisa stava in quel famoso suo solito stato che era lo stato di impietrimento d'accordo da cui veniva liberata solo con la benedizione del sacerdote fecero visite medici e picci chiamano ma che c'ha questa cosa e quella niente e poi Luisa come mi ha riferito uno dei sacerdoti di cui ho parlato prima pensava all'inizio che attenzione qui anche che è un grande monito per tutti noi perché poi veniva sto sacerdote e poi veniva sto signore della croce e Luisa veniva liberata da questo stato di impietrimento mai sapete quante volte negli iscritti dice il nostro signore ma per favore liberami tu che bisogno c'è che viene il sacerdote viene tu direttamente lui mai non si è mai arreso questa cosa qui poi però Luisa nel corso del tempo ha cambiato confessori dei sacerdoti dice perché lei pensava che fosse una cosa dipendente dalla santità personale del sacerdote ma non era così non era dipendente dalla santità personale del sacerdote ma era dipendente dal ministero perché quando quello gli faceva la croce Luisa rimaneva completamente libera chiunque fosse il sacerdote ecco un momento che ecco ok quindi c'è questo aspetto della vita sacerdotale quindi attenzione figlia mia era questo lo scopo con cui permetteva la necessità dell'avvenuta del sacerdote affinché tu deponessi in loro attenzione come sacro deposito tutte le verità che ti ho detto sul mio fiat divino e loro fossero attenti ed esecutori fedeli di ciò che io voglio cioè che facciano conoscere voi sapete che Sant'Annibale di Francia è stato il primo a crederci e ad occuparsi di questo a tutto campo e lui è morto quando ancora l'opera era in composizione quindi non ha visto quasi nulla perché erano più o meno arrivati intorno alla metà dei volumi complessivi ma già con quello che ha fatto il padre Annibale di Francia è stato come dire uno spettacolo ed è stato già canonizzato è Sant'Annibale di Francia ok e nella sua opera vita personale il seguire Luisa e le vicende degli iscritti hanno specialmente negli ultimi anni molto cooptato la sua attenzione ok quindi lui ha fatto in questo la divina volontà sì certo che non avrei permesso l'orrovenuta se non fosse per compiere i miei grandi disegni sulle sorti dell'umana famiglia quindi uno dei motivi per cui il Signore voleva che andassero i sacerdoti era perché conoscessero Luisa e conoscessero quindi ciò che avveniva a Luisa e che Luisa per obbedienza doveva mettere nello subbianco attraverso gli iscritti che loro dovevano per necessità di ministero per forza consultare e dopo la consultazione dovevano cominciare a divulgare quindi e come nel regno della redenzione lasciai la mia mamma regina in mezzo agli apostoli ecco bellissimo affinché insieme con lei ed aiutati e guidati da essa potessero dare il principio al regno della redenzione qui Gesù passa dai profeti agli apostoli perché la sovrana celeste ne sapeva più di tutti gli apostoli e era la più interessata lo si può dire che lo teneva formato nel suo materno cuore quindi poteva benissimo istruire gli apostoli nei dubbi nel modo nelle circostanze era il vero sole in mezzo ad essi bastava una sua parola per fare che i miei apostoli si sentissero forti illuminati e raffermati così per il regno del mio fiat divino avendo messo in te il deposito di esso ti tengo ancora nell'esilio affinché come novella madre potessero i sacerdoti attingere da te ciò che può servire di luce di guida e di aiuto per dare principio a far conoscere il regno della mia divina volontà e vedendo in loro il poco interessamento se sapessi quanto ne soffro perciò prega prega questo è quello che Gesù dice in questo scritto l'importanza di questo scritto è chiaro a mio avviso è di importanza capitalissima perché va a comprendere uno che il regno del fiat è un regno universale quindi la sua diffusione parte certamente dall'accoglienza dei cuori delle persone ma nella mente di Dio vuole chiamare a sé tutti due la mediazione ecclesiale cioè è un patrimonio già adesso della chiesa e il coinvolgimento esplicito dei membri della gerarchia perché un sacerdote sta nel grado più basso della gerarchia per penultimo insomma perché sotto i sacerdoti stanno anche diacolo nella gerarchia però fa parte della gerarchia della chiesa cattolica è quanto mai significativo cioè un sacerdote quando parla e per questo deve stare sempre molto molto deve stare sempre molto attento deve essere sempre molto coscienzioso quando parla specie in pubblico come sacerdote non deve mai dimenticare che parla come sacerdote che non è un cittadino privato cioè la parola di un sacerdote è inevitabilmente più pesante della parola di chi sacerdote non è perché è sacerdote perché è stato ordinato perché fa parte della gerarchia perché la sua parola come dire può essere anche se nessun sacerdote in sé può esprimere non ha nessun titolo per farlo adeguatamente la chiesa però in qualche modo la rappresenta quindi la sua parola ha una certa autorevolezza e quindi se è parola è come dire maldestra o peggio malzana o peggio distorta fa danni grossi è certo che poi uno va a dire vabbè quel sacerdote lì sbarella sta parlando a titolo personale non interpreta la mente la volontà della chiesa né quella di cristo questo può essere tranquillamente possibile però intanto ha sempre parlato come sacerdote e crea comunque un disordine una cosa brutta che sarebbe meglio che non succedesse ecco perché pregate sempre anche voi per i sacerdoti perché in base a quello che fanno sia nel bene che nel male possono fare molto bene ma purtroppo quando non facessero bene le loro funzioni possono generare più di qualche problema da questo Dio ce ne scampia per questo tutto quanto preghiamo comprendiamo però l'importanza di questo scritto nella sua prospettiva e dimensione essenzialmente ecclesiale quindi il regno del fiat supremo è radicato nella chiesa farà del bene alla chiesa e si diffonderà attraverso l'opera generosa e attenta dei membri della gerarchia della chiesa questo è quello che Gesù promette e questo è quello che grazie a Dio in qualche piccolo modo anche se con molta calma diciamo così con molta punta di piedi con molta umiltà si spera che stia cominciando ad avviarsi poi noi offriamo il frutto dei nostri lavori al Signore che ne farà l'uso che meglio crede per la sua gloria e per l'avvento del regno del fiat supremo do la mia benedizione a tutti voi appuntamento per chi lo desidera alla prossima settimana i miei saluti Ave Maria Grazie